Bentornati al nostro appuntamento! Ma Giuliano, ho ben capito che è ancora il parlante e musica, ma metti via quel flauto perché a cerchi, non è il momento! Anche perché, scusami, ma te l'ho delle elementari, forse faria meglio! Torniamo a noi e partiamo con le notizie, ma prima sigla! E il scorso weekend l'è stata dedicata all'ecologia e pude dosento volontari dettute le proloco del Trentin, i s'ha sparpagliati in dei boschi e nei sentieri per torse cura del proprio territorio. Una squadra unita per il bene comune. La proloco di Campi la ne conta stagiornata a ritmo di musica! Sentiamo! Davvero, complimenti! Comunque, dopo tutta sta fadiga nei terboschi, forse l'anca al caso di sentarsi zoove e verse qualcosa. Magari, in bici e robe e bim, ma senza esagerare! La proloco di Giovo la trova a modo per farnelo arrivare direttamente a casa! Quasi come essere alla festa dell'uva! Vediamo! In questo periodo difficile abbiamo deciso di aiutare la nostra comunità creando una wine box contenente vini della Valle di Cembre e delle Colline Abisiane. Il lockdown ha reso difficile per tutti l'uscire di casa e recarsi direttamente dal venditore ed è per questo che siamo entrati in gioco noi per aiutare i nostri soci e portare direttamente il prodotto a casa loro. Hanno aderito all'incirca 30 associati e siamo pronti, non vediamo l'ora, di continuare la nostra iniziativa durante il periodo estivo. Che trovada! Ah, me l'ordino ben, mi sa ve! Ed ora, di nuovo, musica maestro! Quest'anno il Ministero della Cultura torna alla ribalta con la Festa della Musica e le Proloco, come sempre, le potrà partecipare. Vedem come! Dalla lirica al rock, dai canti di montagna al trap. Il 21 giugno è la giornata nazionale della musica, una festa che quest'anno sarà davvero particolare perché le iniziative non saranno solo dal vivo, ma anche online. Care Proloco, iniziate a pensare al vostro evento nel genere musicale che vi appassiona di più e mandate le vostre proposte all'UMPLI. Tutte le informazioni sul sito umpli.info Ma allora, bisogna tirar fuori tutti i strumenti, le vostri, i gruppi musicali! No, dai valla Giulia, ti l'è meglio che te la si perde, per piacere! E parlando di strumenti, adesso ve fago sentire come che suona una vera comunità. Ecco a voi lo scampanio di Brione. Alla prossima! Alla prossima!